Era il 13 maggio del 2014 quando un barcone carico di migranti naufragò a largo di Lampedusa. Tragico fu il bilancio per le 17 vite spezzate. Nonostante il soccorso quasi immediato di due mercantili in zona ed il successivo intervento della nave grecale, furono in 17 a morire tra le onde e dopo lo sbarco i loro corpi, tra cui anche due bambini, furono trasferiti all'obitorio del cimitero di Catania. Stamattina, per ricordare quel triste evento, si è tenuta una cerimonia interreligiosa per onorare le sepolture di quei 17 migranti annegati in mare, voluta dall'amministrazione comunale, che è dato degna sepoltura ai migranti annegati all'interno del cimitero Etneo. Una cerimonia toccante alla presenza del primo cittadino Enzo Bianco, del procuratore della Repubblica Giovanni Salvi e di altre autorità civili e militari, nonché di associazioni di volontariato, tra cui anche la comunità Sant'Egidio, la Caritas di Catania, il centro a stalli. Catania è una città generosa e ha saputo rendere omaggio con grande dignità a queste persone, lanciando nello stesso momento però un monito all'Unione Europea. Non ci è scaricato questo dramma soltanto sulle popolazioni della Sicilia, che sono le più vicine. Occorre che l'Europa si faccia carico di questo dramma e alzi la sua voce e organizzi qualcosa e aiuti queste persone a trovare una speranza non in condizioni così disperate. Questo è l'appello che da Catania nel momento in cui, con questo monumento, che abbiamo voluto fortemente, in cui in ogni tompa è inciso un verso di una poesia e c'è una statua fatta dai ragazzi dell'Accademia delle Belle Arti, questo è il monico che da Catania, che da un esempio di generosità noi oggi lanciamo. Le sepolture sono state realizzate in un'ampia area del cimitero, sotto una statua alta a 3 metri, dal titolo La Speranza Naufragata, ideata da un allievo dell'Accademia delle Belle Arti di Catania, istituzione che lo ha poi realizzato donandolo alla città. La città di Catania oggi ha dato un modello, un modello d'amore, d'accoglienza, anche di ospitalità. Oggi è un modello per la Sicilia e per l'Italia. Realizzando questo spazio per i difunti del mare ci fa anche coraggio e ci dà anche una spinta per realizzare a livello regionale, come abbiamo chiesto sempre, un cimitero per i difunti del mare, a livello regionale.